Musica Al Technology Beats per Rottv Italia in compagnia di Giovanni De Vivo che ci parlerà di Menocarta.net Che cos'è Menocarta.net Giovanni? Buongiorno, è una rete d'impresa nata un anno fa, proprio qui a Napoli, 6 dicembre composta da 8 realtà aziendali, 3 napoletane, una romana, 3 venete ed una milanese è una rete d'impresa che offre servizi ICT, le aziende che naturalmente la compongono hanno un variegato skill ma in questo momento abbiamo come scopo fondamentale e diffusivo quello della gestione elettronica documentale e la conservazione a norma in particolare c'è un'azienda nella nostra rete di diretta emanazione notarile che provvede alla conservazione nel tempo della documentazione che viene appunto depositata da parte delle aziende clienti Quali pensi possono essere gli sviluppi di questa politica diretta a salvare l'ambiente e quindi ad utilizzare di meno la carta? Assolutamente, c'è sia un aspetto green che è sentito fortemente finché se ne parla in generale mentre invece è sentito molto meno quando poi si va a toccare la parte economica più pura delle aziende però abbiamo un saving di costi notevole, le aziende che dematerializzano e conservano cartaceamente hanno un risparmio di 12 euro per documento cartaceo eliminato quindi direi che fatti i conti per numeri di documento annuo per risparmio si capisce esattamente quello che è il saving costi annuale per ogni azienda quindi direi che lo è stato semplice Grazie.